Eccole qua le bellezze dell'autunno, cachi, finotti, ancora melenzane, poi noci, zucchine, guardate qua queste verdure, che cosa sono? Buongiorno, bellissime queste verdure, queste verze, verze cavoli. Iside, società agricola, di cosa vi occupate? Noi coltiviamo pianti ufficinali, biologico, in provincia di Avillino, abbiamo il nostro operatore aziendale, dove produciamo infusi e oli essenziali. Bellissima, e questo? Che bel profumo che viene! Questo è l'olio essenziale di salvia. Magnifico, si sta spargendo dappertutto, ad Avillino dove? Pietra di Fusa. Grazie, grazie a lei. Non potevano mancare i formaggi, eccoli, buongiorno. Buongiorno a lei. Un mese vale, sì, è forse. Da Benevento, Castelfranco in Misano? Ah, mi piace quella felpa! A disposizione. Baci e abbracci, buongiorno! Miele! Baci e abbracci! E le api come si sono comportate quest'anno? È andato bene quest'anno purtroppo. Si vede? Ma non per colpa loro. Però sono i miei! Per colpa degli umani, che si combattono male le api stanno male. Grazie! Grazie! Grazie.